Buonasera e ben ritrovati al TG Rowing in diretta da Candia. È partito ufficialmente il 26esimo Festival dei Giovani. Ad aprire il sipario le sfide dei comitati regionali 12, i comitati regionali in acqua, 9 sono riusciti anche a salire sul podio. Le 8 regate di giornata hanno visto trionfare la Lombardia con 6 medaglie d'oro, uno a testa invece per Sicilia e Friuli Venezia Giulia. Questa cornice meravigliosa ha aperto il Festival dei Giovani, ma domani si continua alle ore 9.00, il primo UB ufficiale con le regate riservate alle società, le 122 società e i 1.500 atleti in acqua per questa edizione 2015. La prima impressione è estremamente positiva, partecipazione stupenda, animosità e soprattutto allegria e questo fa sempre bene per un'organizzazione di questo genere. Quindi assisteremo sicuramente anche delle belle gare e naturalmente in bocca al lupo a tutti. È giunto alla 26esima edizione, ogni tanto escono anche dei campioni o dei campioni del futuro. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo Festival dei Giovani? Ma questa manifestazione serve proprio a questo, a portare avanti un gruppo di giovani, sicuramente motivati, sicuramente propensi a crescere, ma da questa manifestazione si attinge costantemente e da questa manifestazione vengono fuori i canottieri del futuro. Il coordinatore tecnico regionale della Lombardia, Gian Battista della Porta, commenta così le sei vittorie degli equipaggi bianco-verdi. Il lavoro del comitato è stato durante tutto l'anno con i miei collaboratori visionare le varie gare di ragazzi per formare una squadra. Poi abbiamo scelto un numero di ragazzi, abbiamo fatto delle prove a Pusiano con vari raduni per assemblare equipaggi. Quindi un bel lavoro è stato svolto di tutta la squadra, di collaboratori e atleti e bisogna ringraziare anche le società che ci hanno creduto nel nostro lavoro che abbiamo fatto. Un progetto di squadra che ha permesso di creare equipaggi molto equilibrati perché le medaglie d'oro sono state sei. Ma qual è il segreto della Lombardia? Il segreto è di tutti questi anni che ci crediamo è un lavoro che facciamo, la voglia da far crescere il futuro e il canottaggio italiano. Quindi da vedere questi ragazzi il primo approccio con la Lombardia che può essere un futuro per entrare in nazionale. Quindi loro sono molto entusiasti e noi entusiasti cerchiamo di far crescere e trovare qualche talento per il futuro. Vogliamo lasciare un messaggio a tutti questi ragazzi che abbiamo visto sul podio? Di continuare nello sport e crederci ai sacrifici ma anche nella loro vita studiare a sei bravi ragazzi.